Corte dei Conti in Sicilia 901 sentenze e condanne per oltre 17 milioni di euro. Questi i risultati nonostante la procura abbia un deficit di organico. A Siracusa tre arresti e sette indagati avrebbero posizionato bombe carta davanti ad attività commerciali come ritorsione per i debiti di droga non saldati. Covid, bollettino settimanale in Sicilia, contagi ancora in calo, meno 11,76% e ricoveri in ospedale in diminuzione. A Palazzo Reale il secondo congresso internazionale della rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. Il grande calcio arriva su Tele One con le semifinali di Coppa del Re. Stasera alle 21 in campo al Santiago Bernabéu, Real Madrid e Barcellona. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi giovedì 2 marzo. Corte dei Conti in Sicilia 901 sentenze e condanne per oltre 17 milioni di euro. Questi i risultati nonostante la procura abbia un deficit di organico del 42%. Nel 2022 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia, nonostante una scopertura dell'organico, ha emesso 901 sentenze di cui 104, quelle in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di 301 convenuti amministratori, dipendenti pubblici o soggetti privati legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e ha pronunciato condanne per un totale di quasi 17,4 milioni di euro. Sono alcuni dei dati illustrati dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, Vincenzo Lopresti, durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2023 che si è svolta a Palermo. Inoltre sono 10 le sentenze in materia di conti giudiziali resi da agenti contabili con condanne pari a 16,8 milioni. Infine, sono 787 le sentenze in materia di pensioni pubbliche, 258 le ordinanze e 2761 decreti in materia di conti giudiziali. È importante spendere bene le poche risorse disponibili, ha sottolineato Lopresti, perché le risorse non bastano a soddisfare tutte le esigenze, quindi bisogna amministrarle in maniera tale da farle affluire preferibilmente nei confronti di chi ne ha più bisogno, ovvero la parte più debole della popolazione. Ma per svolgere questa attività di gestione è importante non solo la celerità nella spesa di dinero pubblico, ma anche che questa avvenga in maniera oculata. Da qui nasce l'esigenza di un sistema di controllo che si affianchi all'amministrazione attiva per garantire, da un lato, l'assoluto rispetto delle leggi che regolano l'attività amministrativa, dall'altro, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche. L'organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati, incluse il Procuratore generale, e al 1 gennaio 2022 risultavano complessivamente in servizio sei magistrati in assegnazione principale, oltre uno in aggiuntiva. Quest'ultimo, dal 30 settembre scorso, è stato sostituito da un magistrato in assegnazione principale. Nel complesso, quindi, risultano in servizio un presidente di sezioni con funzioni di procuratore regionale, un vice procuratore generale, sei sostituti procuratori generali con una scopertura di organico di quattro posti che si attesta sulla soglia critica del 42%. Dopo l'annunciato aumento degli stipendi dei parlamentari siciliani, la consulta regionale delle aggregazioni laicali, l'organismo laico promosso dalla conferenza episcopale siciliana, scrive una lettera al presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, affinché intervenga per stoppare l'adeguamento Istat. Accorato appello al presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, è stato rivolto dalla consulta regionale delle aggregazioni laicali, l'organismo laico collegato alla conferenza episcopale siciliana, perché intervenga per stoppare l'annunciato aumento delle indennità dei parlamentari siciliani, considerata una provocazione nei confronti dei tanti che con il proprio stipendio da fame faticano ad arrivare a fine mese e che sempre più spesso per mangiare devono fare ricorso alla Caritas o al Banco Alimentare. Come CRAL abbiamo ritenuto necessario inviare una lettera ufficiale al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Gaetano Galvagno e ai presidenti dei gruppi parlamentari dell'ARS per manifestare due base e idee. Uno, quello di manifestare il nostro disappunto per il provvedimento improvvido circa l'aumento delle indennità, che, sia pur corretto formalmente, accendua sempre di più il divario tra le istituzioni e la gente. Gente che non sentendosi interpretata e rappresentata diserta il momento elettorale, per cui la democrazia viene sempre più a indebolirsi. Il secondo elemento è quello di ribadire la nostra disponibilità a collaborare con i parlamentari, se tale possibilità ci sarà data, e collaborare per un patto di leale collaborazione sulla questione essenziale della nostra martoriata terra, al fine di ridurre le diseguaglianze sociali, alimentare la solidarietà e la sussidiarietà, proteggere la famiglia, i giovani e favorire lo sviluppo. Ecco, questi sono i due motivi principali che ci hanno spinto a rivolgere questo accurato appello alle istituzioni pronti a dare il nostro fattivo contributo. E proseguiamo con la cronaca. A Siracusa tre arresti e sette indagati avrebbero posizionato bombe carta davanti ad attività commerciali come ritorsione per debiti di droga non saldati. Vi diamo il servizio. Bombe carta come ritorsione per debiti di droga non saldati a Siracusa. Tre uomini in manette arrestati dai carabinieri, quali presunti autori degli attentati dinamitardi del settembre 2021, ai danni di tre esercizi commerciali. I tre sarebbero anche gestori di una piazza di spaccio. In base alla ricostruzione dei fatti scaturita dalle indagini dei carabinieri, effettuate tramite attività di intercettazione audio-video, analisi di telecamere e tabulati e infine con riscontre e sequestri di materiale esplodente e sostanza stupefacente, sarebbero stati individuati tutti i componenti della banda delineandone il ruolo. Nel dettaglio i carabinieri di Siracusa hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, di cui due in carcere e uno ai domiciliari, nei confronti di tre uomini di 41, 30 e 24 anni. In particolare, il mandante, rivelatosi essere il capo di una fiorente piazza di spaccio, aveva incaricato l'esecutore di posizionare nei pressi degli ingressi e le attività delle vittime degli ordigni esplosivi che, a seguito di accertamenti tecnici del RIS di Messina, sono stati considerati potenzialmente micidiali e hanno causato gravi danni sia alle strutture che alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Tali ordini erano stati dati perché nessuno doveva mancare di rispetto al gestore della piazza e tutti i clienti dovevano sapere che i debiti andavano saldati. Inoltre è stato possibile contestare il sequestro di persone in almeno una circostanza. La vittima, che aveva accumulato un debito consistente per sostanza stupefacente e non pagata, veniva rapita per cossa violentamente e minacciata con una pistola per costringerla all'immediato pagamento tramite denaro, contante o lo svolgimento di lavori e servizi per la banda. Le azioni violente e spregiudicate dei tre arrestati hanno avuto un forte ascendente sui restanti sette indagati, i quali, attratti dai facili guadagni affascinati alla metodologia criminale utilizzata dal capo e dai gregari, si erano messe a disposizione per tenere aperta tutto il giorno la piazza di spaccio, che fruttava quotidianamente circa 1000 euro. L'attività criminale è stata disarticolata al termine delle procedure investigative, mediante anche ripetuti e continui interventi di pattuglie, che di volta in volta hanno denunciato gli spacciatori e identificato gli acquirenti, sequestrando droga e denaro contante. Omicidio Ilardi di ACI Sant'Antonio. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico del 33enne Antonio Cosentino. Antonino Cosentino, 33enne commerciante all'ingrosso di Pollame, è indagato per omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da sparo. I carabinieri del nucleo investigativo lo hanno fermato in Viale Vincenzo Giuffrida dopo l'omicidio di Francesco Ilardi, vittima di una sparatoria lunedì scorso, mentre si trovava in un marciapiede fuori da un circolo ricreativo di caccia da ACI Sant'Antonio in provincia di Catania. L'indagato, secondo una ricostruzione degli investigatori alle ore 19 circa di lunedì 27 febbraio, alla guida della propria Suzuki SX4, dopo aver compiuto un giro di ricognizione, avrebbe avvicinato i lardi e nell'arco di pochissimi secondi avrebbe esploso contro la vittima quattro colpi di pistola, pare con un calibro 38, colpendola mortalmente con un proiettile nella zona lombale, per poi darsi alla fuga e rendersi da quel momento irreperibile. Sono attivamente in corso ancora le ricerche dell'arma utilizzata per l'omicidio. Alla base dell'omicidio vi sarebbero tensioni e rancori connessi alla sfera lavorativa della vittima e del presunto assassino. I lardi Francesco, infatti, qualche mese fa si era separato dal socio, padre del Cosentino, per mettersi in proprio nel commercio di Pollani. Cruciale per l'indagine è stata l'attività informativa posta in essere dai carabinieri sulla vita privata sia della vittima sia del presunto assassino, come anche l'acquisizione delle immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco e le risultanze degli accertamenti tecnici della sezione investigazione scientifica del comando provinciale di Catania, che sono stati in grado di rinvenire all'interno dell'abitacolo dell'autolettura utilizzata dal killer residui di polvere da sparo. E ora a Favignana il direttore di un istituto di credito licenziato già da qualche mese avrebbe sottratto 400 mila euro dai conti correnti di una cliente disabile. Le indagini della Guardia di Finanza sono state avviate dopo la segnalazione per cospicui prelievi dei conti di una donna affetta da cecità totale. Militari del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un 62enne trapanese, direttore di una filiale di un importante istituto di credito con agenzia sull'isola di Favignana dal 2001 al 2022. Il provvedimento, richiesto dalla locale procura della Repubblica ed emesso dal GIP del Tribunale di Trapani, consegue a indagini espletate dai finanzieri della tenenza di Favignana e del gruppo di Trapani, a seguito dell'inoltro, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, di alcune segnalazioni per operazioni sospette con le quali erano state segnalate numerose movimentazioni ingiustificate dai conti correnti di una persona affetta da cecità totale. In particolare era stato segnalato che tra il 2017 e il 2021 erano stati prelevati in contanti dei conti correnti in una persona con disabilità oltre 400.000 euro, con una media di 100.000 euro annui e 10.000 euro al mese. Prelievi in gran parte effettuati dall'indagato nella sua mansione e direttore e gestore di investimenti della clientela privata, il quale si sarebbe appropriato indebitamente delle ingenti somme e denaro sopravvidenziate in possesso della disabile ex dipendente comunale ora in pensione. Il modus operandi, rilevato nel corso delle complesse indagini, ha evidenziato chiaramente come l'indagato avesse scelto la sua preda tra i clienti più facoltosi presenti sull'isola, ma anche tra quelli anziani e in precario stato e salute, possibilmente soli o con congiunti lontani di cui era riuscito a guadagnarsi la totale fiducia. Nel suo proposito criminoso, il direttore di banca era stato molto abile nel creare con l'ex impiegata del comune di Favignana un rapporto esclusivo e personale, arrivando in tolunicasi anche a risolvere i problemi di carattere quotidiano, il tutto ovviamente finalizzato a ottenere la completa gestione del cospicuo patrimonio finanziario in possesso della vittima. In tal modo ha potuto arbitrariamente simulare la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronirsi di somme relative a disinvestimenti non disposti alla titolare, effettuare bonifici e prelevamenti diretti sui conti correnti e a sua insaputa. Inoltre, per raggiungere tali scopi, avrebbe più volte creato anche documenti bancari e deleghe ad operare con sottoscrizioni false ed accesso a rapporti bancari sconosciuti alla vittima, al fine di meglio effettuare le anziedette operazioni. In molte occasioni, inoltre, per effettuare i prelievi illeciti, avrebbe utilizzato indebitamente le credenziali di altri colleghi di banca. I reati contestati sono quelli di furto aggravato e di autoriciclaggio delle medesime somme di provenienza delittuosa. L'autorità giudiziale inquirente, in ordine ai reati contestati, ha disposto nei confronti dell'ex direttore di banca il sequestro preventivo in funzione della successiva confisca sino all'importo di 350 mila euro, pari alla somma complessiva sottratta alla disabile nel corso degli anni dei sui conti correnti, nonché per un importo di 40 mila euro circa di un immobile ubicato a Trapani, acquistato in parte con le somme di denaro illecitamente prelevate dei conti della vittima. E ora passiamo alle notizie sul Covid. Bollettino settimanale in Sicilia. Contagi ancora in calo, meno 11,76% e ricoveri in ospedale in diminuzione. Nella settimana dal 20 al 26 febbraio in Sicilia si è assistito ancora ad un netto decremento delle nuove infezioni da Covid, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi casi positivi diagnosticati sono stati 1.380, meno l'11,76%, con una incidenza di 29 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Messina e Palermo. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione. I nuovi ricoveri sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid-19. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 28 febbraio. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,39%. Sono 61.970 i bambini che risultano con ciclo primario completato, pari al 20,11%. Nel target over 12 i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,99%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,61%. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.658. I vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.773.984, pari al 71,23%, incluso il target 5-11 anni. Le somministrazioni di quarta dose sono 242.718, di cui 213.449 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.779. Piano straordinario della regione siciliana di messa in sicurezza di fiumi e torrenti per prevenire danni al territorio e alla popolazione. Continuano gli interventi disposti dal presidente della regione Renato Schifani per combattere i fenomeni alluvionali e prevenire i danni al territorio e alla popolazione. Una programmazione che dovrà essere accompagnata da una mappatura degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in tutta la Sicilia. Nell'immediato gli interventi più importanti sono stati pianificati attraverso l'autorità di bacino del distretto idrografico proprio nella zona orientale, in cui lo scorso 9 febbraio si è abbattuto il ciclone Helios, che ha causato l'esondazione del fiume Gornalunga, affluente del simeto nei territori di Catania, Ramacca e Lentini. I lavori saranno realizzati dall'ente di sviluppo agricolo in collaborazione con il consorzio di bonifica della Sicilia orientale. Nel corso della riunione nella base militare di Sigonella, inoltre, è stato deciso che la città metropolitana di Catania e l'ente oasi del simeto provvederanno ad avviare l'itera progettuale per il dragaggio della foce del fiume, che servirà a regolare il deflusso delle acque in caso di ondate di piena provenienti sia dal Gornalunga sia dal Dittaino. Sempre in Sicilia orientale, l'autorità di bacino ha stipulato una convenzione con il comune di Siracusa per la realizzazione della manutenzione straordinaria dei fiumi Anapo e Ciane. I lavori dall'importo di 247 mila euro consisteranno essenzialmente nella rimozione della vegetazione e di qualsiasi materiale alluvionale che ostacoli il normale deflusso delle acque. La convenzione prevede che il comune di Siracusa sia il soggetto attuatore e la stazione appaltante dei lavori. Nel Nisseno, infine, è approvata la realizzazione dei lavori di somma urgenza sui torrenti Ficuzze e Maroglio, che in alcuni tratti hanno distrutto gli argini a causa della presenza di canne, tronche e detriti vari. In questo caso, ad occuparsi della realizzazione dei lavori dal costo di 291 mila euro, sarà il genio civile di Caltanissetta. Il comune di Riposto è stato inserito nell'elenco dei finanziamenti per la progettualità relativa al rifacimento della costa ionica, nell'intento di rafforzare e proteggere il litorale dall'erosione costiera. Nel tratto di mare, compreso tra la radice del porto di Riposto, sino alla zona Calanna, comprendendo anche torre Archirafi. Ascoltiamo le parole del sindaco di Riposto, Enzo Caragliano. Abbiamo stato inserito nell'elenco dei finanziamenti per fare la progettualità di ripascimento costano soprattutto di tutta la difesa dell'itorale che va dalla radice del porto fino a tutto il borgo editore. Una grande opera, un progetto che sicuramente impegnerà a diversi studi di ricerca, ma soprattutto sarà quando sarà poi finanziata, perché solo la progettualità è di 500 mila euro che il Ministero ha messo a disposizione per questa grande progettualità perché l'opera farà costare sui 6-7 milioni, tutto sarà sulla riva, diciamo, la varia rivoluzione dei pezzi. Ma cosa servirà? Servirà non solo a ripascere le nostre coste e mettere in protezione quei piccoli spazi che ancora usiamo per i bagnanti, ma soprattutto per proteggere l'abitato. Ora, le vecchie scogliere sarà fatto tutto uno studio per proteggere tutto il nostro lungomare, fino all'abitato di Torre. La cosa importante, abbiamo visto le criticità che si possono manifestare con l'ultima mareggiata. Quindi diciamo che è stata un tocca sana, che è stata di quelle cose che nel tempo che questa amministrazione da me ha preso, ha previsto, ha chiesto e oggi è altro. E ora a Palazzo Reale a Palermo, oggi e domani, il secondo congresso internazionale della rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. La Fondazione ha aderito a questa rete internazionale con la Spagna, la Slovenia, Malta e Portogallo, ma bisogna tenere presente che i pilastri di questo percorso convergono per questo comune obiettivo di riconoscimento di un patrimonio che ha risvolti di carattere sociale, di sviluppo territoriale di grande rilevanza. Si tratta di antichissime tradizioni che non sono legate soltanto alle celebrazioni religiose, ma che sono sintomo di una coesione sociale che è elemento portante del riconoscimento sia per l'UNESCO che per il Consiglio d'Europa. Caltanissetta è capofila di Europassione per l'Italia e quindi riunisce tutte le comunità italiane che si occupano di passione. Stiamo andando avanti verso il riconoscimento del patrimonio in materia dell'umanità da parte dell'UNESCO e per noi è fondamentale davvero questo percorso. La sovrintendenza ha un ruolo di tutela ma anche di valorizzazione per quanto riguarda la Settimana Santa. Tra la Settimana Santa e Caltanissetta è non solo sentita da tutti i nisseni ma davvero in Sicilia ha delle peculiarità davvero fondamentali. La sovrintendenza è inserita all'interno di questo progetto veramente a pieno titolo. Dalla rete si cresce, cioè le comunità della Settimana Santa quando si incontrano, quando si confrontano, quando si raccontano quello che fanno crescono in quelle che sono le pratiche fondamentali di salvaguardia e valorizzazione di un patrimonio come quello immateriale che è un patrimonio molto fragile perché è legato alle persone. Quindi questo incontro tra persone è un momento determinante proprio per la crescita e anche per la conservazione di questo patrimonio. Costante l'aumento del flusso di passeggeri dall'aeroporto di Trapani da marzo al via i collegamenti internazionali con Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Slovacchia e Spagna. Da giugno anche quello per il Portogallo. Vediamo il servizio. I dati di febbraio dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, Birgi, registrano il transito di 38.068 passeggeri confermando la tendenza in crescita dell'attività dello scalo. Si evidenzia un più 27% in confronto al febbraio dello scorso anno. Prendendo in esame il bimestre gennaio-febbraio 2023, sono in totale 81.364 passeggeri transitati allo scalo Trapanese, più 41% rispetto allo stesso bimestre del 2022. Rispetto agli anni della pandemia, poi la crescita arriva fino alle tre cifre, con più 749% rispetto al 2021, più 88% rispetto al 2020. Rispetto all'anno di riferimento 2019, la crescita è del 20%. I movimenti di febbraio sono stati 378, pari a meno 6% rispetto allo scorso anno, ma con una coesione di riempimento maggiore. Il traffico commerciale dell'aeroporto di Trapani, Birgi, è quasi esclusivamente di tipo nazionale, essendo allo stato attuale Malta l'unico volo di linea internazionale che costituisce per il 13% del traffico commerciale. Da domenica 26 marzo, data di inizio è la Summer 2023, cominceranno i collegamenti internazionali con Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Slovacchia e Spagna. Da giugno anche quello per il Portogallo. I dati del traffico sono inequivocabilmente il termometro del buono stato di salute nel nostro scalo, afferma il presidente di Airgest, società di gestione nell'aeroporto di Trapani, Birgi, Salvatore Ombra. Siamo più che soddisfatti perché siamo consapevoli che davanti abbiamo un sicuro notevole incremento grazie ad una Summer corposa a partire dal mese di marzo, con felici e auspicati riscontri per il territorio e rispondendo con i numeri alla fiducia dell'azionista in maggioranza regione siciliana che attraverso il presidente Renato Schifani proprio nei giorni scorsi ha rinnovato il suo sostegno allo scalo dei trapanesi. E ora cambiamo decisamente argomento. Salvo la Monica, noto youtuber siracusano, debutta nel mondo dei videogame con l'obiettivo di affermarsi professionalmente nelle nuove piattaforme e conquistare la targa indiamante di YouTube mirando a superare i 10 milioni di iscritti. Nuova avventura professionale nel mondo dei videogames per Salvo la Monica, 35enne videomaker siracusano da qualche mese sbarcato nelle playlist delle console virtuali di internet con il videogioco Simba The Cates con protagonista un personaggio virtuale ispirato al suo amatissimo gatto frutto di un lavoro molto meticoloso nell'ambito della grafica 3D e del quale la Monica ha già creato anche un brano musicale. Salvo è noto al grande pubblico di Nuova Generazione per aver ricevuto da YouTube nel 2022 una targa simbolica per aver superato il milione di iscritti al suo canale. Nel 2020 aveva già conquistato un'analoga targa in argento per aver raggiunto i 100.000 seguaci del suo canale. La Monica è conosciuta i fatti dal popolo della web per i suoi video come The Mask e Dragon Ball ricchi di effetti speciali che incollano davanti milioni di appassionati soprattutto giovanissimi ed è già pronto a puntare al prossimo traguardo. A differenza dei colleghi che hanno proseguito la loro carriera avendo come punto di riferimento la capitale e come obiettivo la TV la Monica sceglie di ritornare nella sua Siracusa e da lì continuare il suo sogno. Una scelta a controtendenza che con il passare del tempo gli ha dato però ragione. I costumi di salvo sono realizzati grazie al supporto della mamma e della nonna, abili maestre del cuscito che confezionano costumi che gli permettono di interpretare i suoi personaggi. Questo è impossibile. Il grande calcio arriva su Tele One con le semifinali di Coppa del Re. Ieri sera l'Osasugna ha battuto l'Atletico Bilbao nella prima semifinale di Andata. Stasera alle 21 scenderanno in campo al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Barcellona. La partita sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva regionale sul nostro canale. Allo stadio del Sadar di Pamplona Osasuna e Atletico Bilbao inaugurano le semifinali della Coppa del Re Spagnola. I padroni di casa scendono in campo con Herrera tre pali, difesa a quattro con Moncaiola, Aridane, David Garcia e Juan Cruz, a centrocampo Torro, Gomez e Eymar a supporto del tridente offensivo composto da Avila, Budimir e Abde. L'Atletico Bilbao risponde con Agir e Zebala in porta che prende il posto dell'infortunato Ney Simon, in difesa a Berchiche, Martinez, Viviane e De Marcos, a centrocampo Vesga e Garcia, dietro ai tre centrocampisti offensivi Muniain, Sanchet e Berenguer a supporto dell'unica punta in Aki Williams. La gara inizia subito con un'occasione limpida per l'Atletico Bilbao, ma il tiro di Muniain viene neutralizzato da un grande riflesso del portiere Herrera. Il seguente tap-in di Williams è annullato per netta posizione di fuorigioco. Ancora la formazione bianco-rossa ad accendere il match con una sgroppata di Muniain che però termina alta sulla traversa. L'Atletico Bilbao è nervoso e incattivisce il gioco con alcuni interventi un po' sopra le righe. La prima frazione di gioco finisce sullo 0-0. Il secondo tempo comincia nel migliore dei modi per i Blaugrana padroni di casa. Un lancio in profondità di Gomez raggiunge sulla fascia Abde che supera Viviane e poi insacca di precisione il gol dell'1-0. La reazione dell'Atletic non si fa attendere, ma il tiro di Garcia è alto sopra la traversa. Ancora Garcia ci prova qualche minuto più tardi sugli sviluppi di un calciopiazzato battuto da Nico Williams, ma la palla viene intercettata da Moncaiola. L'ultimo guizzo della partita è del subentratto Guruseta che però si fa ipnotizzare da Herrera. Finisce così la gara di andata delle semifinali di Coppa del Re. Osasuna batte Atletic Bilbao per 1-0 grazie alla rete di Abde. Stasera alle 21 si giocherà la seconda semifinale, il grande classico del calcio spagnolo. Scenderanno infatti in campo al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Barcellona. Appuntamento allora alle ore 21 per la diretta in chiaro ed in esclusiva regionale su Tele One. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.